Federica Caleffi, Woman of the Match del torneo di oggi, la seconda tappa di Coppa Italia si è conclusa con tre vittorie e una sconfitta. Che cosa puoi dirci? Sei contenta, sei soddisfatta della giornata di oggi? Sì, sono soddisfatta della giornata di oggi perché abbiamo giocato bene, abbiamo messo in atto tutto quello che abbiamo lavorato nell'ultimo mese di allenamento. Abbiamo vinto tre partite su quattro, è stato un peccato per l'ultima partita, solo per la sconfitta, ma alla fine abbiamo dimostrato che siamo una squadra importante all'interno di questo campionato e insomma col tempo lavoreremo meglio e cercheremo di colmare le nostre difficoltà e gli errori che abbiamo commesso.